quella del rally di roma capitale e la quarta vittoria consecutiva su quattro gare del campionato italiano rally due ruote motrici per tommasso ciuffi e la peugeot 208 r2b navigato dal fedele nicolò gonella ciuffi ha saputo impostare un gran ritmo di gara fin dai primi istanti nonostante un ritardo imposto in occasione della prova speciale 1 poi corretto dalla direzione di gara la competitiva ed affidabile peugeot 208 r2b coi colori ufficiali ha saputo scrivere un altro importante capitolo della storia dei rally italiani questo risultato permette alla casa del leone di consolidare la leadership nel campionato e puntare con maggiore serenità all'appuntamento friulano in calendario a fine agosto prossimo determinanti anche in questa occasione i suggerimenti e le indicazioni passate all'equipaggio dal coach paolo andreucci motorsport ambassador della casa del leone maggiore maggiore